Riva via il ginocchio! Calcate! L'avete un'ultima desiderio, potrei fare una telefonata. Pronto Mario, come stai? Io bene, bene. Sono con degli amici. Sì, sì, sta bene. No, è l'altro, il piccolo. Cosa vuoi? Corre dappertutto, poi suda e sa mala. No, Domenica non vengo. Per fare 30 km ci vogliono 3 ore. Dai, parliamone per telefono, che conviene. Scusi, posso poter avere una sedia? Lato. Allora, vai al mare quest'estate? Beh, no, io non ci riuscirò. Teresa è per ente in montagna, lo sai, poi lì si passeggia, ti viene fame, mangi. L'anno scorso ho preso 3 kg. Vabbè, sì, ti lascio. Ci sentiamo. Salutami Marco. Ah, è lì? Passamelo allora. Marco, che fine hai fatto? Meno male che c'è il telefono, come stai? Come telefonata? Allunga la vita.